Buonasera a tutti, siamo alla sesta puntata di questi incontri al femminile, di cui stiamo parlando di temi molto importanti e il tema di oggi è proprio di grandissima attualità, perché parliamo di cambiamento climatico e del ruolo che hanno nel affrontare questo grande problema le città e anche i singoli cittadini. Come sapete, proprio in queste ore a Dubai stanno decidendo se lasciare da parte il carbone, il petrolio oppure no, e quindi forse è meglio che i cittadini facciano sentire la loro opinione. Su questo tema, in particolare appunto il ruolo delle città, abbiamo tre interventi. All'Apre Pinoccia Montanari, che ha una grossa esperienza proprio come amministratrice nella gestione delle città, non si è orgogliosamente nominata assessora, è stata assessora a tre grandi città, quindi Reggio Emilia, Genova e Roma, dove di volta in volta si è occupato di città sostenibili, di parchi storici della decrescita e della sostenibilità ambientale. Quindi è sicuramente un'esperta su queste tematiche, su cui ha anche operato scrivendo libri, partecipando a attività divulgative di varia natura, e membro dell'Ecoistituto Reggio Emilia Genova e a lei dà la parola. Pinoccia a te. Bene, allora condivido lo schermo. Eccoci qua. Vedete? Sì? Bene. Allora, il titolo dell'incontro di oggi è, diciamo, significativo, perché non parliamo solo di cambiamenti climatici, ma del ruolo delle città e della partecipazione dei cittadini e su questo interverranno poi appunto anche i relatori successivi. In particolare, adesso qua devo vedere come fare perché non va più avanti, ecco, i due punti centrali riguardavano, diciamo, da un lato un argomento che abbiamo già trattato nei precedenti incontri, cioè la fine delle fonti fossili, anche se, come diceva adesso appunto Federico Valerio, certamente i risultati deludenti, come immaginavamo d'altra parte, della COP28 attestano come questo obiettivo sia un obiettivo molto difficile appunto da mettere in campo. L'altro punto di vista era quello proprio dei cambiamenti climatici collegato appunto con il ruolo delle città. Ma io volevo partire appunto riprendendo alcuni punti che riguardano questa grande sfida dei cambiamenti climatici, che non è da dimenticare, perché? Perché, diciamo, alcuni esempi concreti dimostrano come il nostro sforzo oggi deve essere uno sforzo impegnativo, partendo da alcuni dati, alcuni dati che riguardano, uno, lo dicevamo già anche la volta precedente, la foresta amazzonica non è più il polmone verde del mondo. Negli ultimi dieci anni la foresta amazzonica ha rilasciato il 20% di anidride carbonica in più rispetto a quanto ne abbia assorbito questo naturalmente a causa degli incendi. Quindi quando parliamo di sfide parliamo di situazioni molto concrete. La crisi climatica la si può appunto anche vedere in modo molto evidente analizzando lo scioglimento dei ghiacciai. Proprio ieri davano l'altra notizia di un altro importante ghiacciaio del Piemonte che si è, diciamo, ridotto del 20% nel giro di pochissimo tempo. Quindi l'obiettivo della decarbonizzazione è un obiettivo per noi appunto centrale. Per non parlare appunto della situazione dell'innalzamento della temperatura, l'estate 2022, quella più calda di sempre in Europa, ma anche il 2023 appunto non ci ha lasciato appunto indifferenti rispetto a questa problematica collegata tra l'altro con situazioni gravissime come si possono vedere di siccità, di portata appunto dei fiumi che a causa dei cambiamenti climatici stanno pagando delle conseguenze gravissime che hanno un impatto appunto sull'ecosistema. Gli impatti appunto dei cambiamenti climatici, abbiamo già detto, sono impatti che sono diretti e indiretti e che appunto vanno a incidere proprio sulla vita delle città. Le risposte, dicevamo nella volta precedente, riguardano proprio la possibilità di inaugurare una nuova transizione ecologica ed energetica per rispettare quegli obiettivi che sono stati appunto diciamo confermati a Parigi, nell'accordo di Parigi del 2015 e quindi il contenimento dell'aumento della temperatura di un grado e mezzo e se no gli scenari saranno catastrofici è confermata anche a Glasgow. Dopodiché abbiamo avuto una serie di conferenze globali che pur avendo diciamo messo al centro la questione della sfida dei cambiamenti climatici, tergiversano su questi obiettivi che invece sono fondamentali perché come si vede da questa slide, i scenari appunto potranno essere davvero catastrofici e noi invece vorremmo mantenerci in uno scenario appunto prudente. I tre grandi rischi che anche il World Economic Forum ci ha ricordato sono appunto cambiamenti climatici, eventi meteorologici estremi, perdita di biodiversità, quindi questi sono gli aspetti che dobbiamo affrontare, che porteranno delle conseguenze che già vediamo come la tropicalizzazione, la desertificazione e abbiamo ricordato la volta precedente queste due figure importanti di Vandana Shiva e di Caroline Merchant con il suo bellissimo libro La morte della natura e soprattutto come queste donne abbiano già nel tempo affrontato e diciamo indicato quelle che sono le conseguenze diciamo globali e locali non solo dei cambiamenti climatici ma appunto di un modo scorretto di gestire il rapporto con la natura. Io appunto ritorno a questo punto invece sugli aspetti che avevamo già evidenziato e cioè come in realtà anziché un cambiamento che noi dovremmo mettere in campo in modo rigoroso noi stiamo addirittura aumentando le emissioni di CO2 ed è stata molto interessante la conferenza di Federico Valerio della scorsa settimana e consiglio a tutti coloro appunto che poi guarderanno anche questa di andarsela a rivedere e a studiare perché è possibile vedere con diciamo misurare nella concretezza della vita quotidiana appunto che cosa significa emissione appunto di CO2. Noi oggi quindi abbiamo una situazione molto grave che dobbiamo affrontare appunto dando un ruolo centrale alle città ma prima delle città io vorrei affrontare il fatto che come sta diciamo anche elaborando la COP28 in questo si sta mantenendo coerente cioè sta ragionando appunto su le misure di mitigazione e di adattamento che sono quelle misure che ci consentono di ottenere appunto un risultato in termini di riduzione dei rischi climatici e di sfruttamento delle potenziali opportunità e che possono apportare anche benefici sociali ambientali ed economici. Le strategie e i piani di adattamento sono quelli che le città hanno assunto nel corso del tempo soprattutto alcune città importanti a livello nazionale si sono impegnati a mettere in campo sia il documento strategico rispetto appunto all'implementazione delle misure di adattamento che possono essere ed avere un impatto importante a livello di governance sia appunto i piani degli e propri di adattamento che sono successivi all'adozione appunto delle strategie e che dovrebbero appunto indicare quali sono per ogni città le azioni prioritarie di adattamento da mettere in campo. Ricordiamo che ogni città dovrebbe avere una strategia e avere un piano di adattamento climatico soprattutto a partire da un tema centrale che è quello dell'indice di rischio climatico un indice che è stato calcolato già appunto da ISPRA quindi si tratta di diciamo andarselo a studiare nelle singole città per capire qual è il nostro rischio di climatico e quindi l'indice di rischio climatico è un elemento centrale per capire poi come muoverci e per avere e dare una risposta scientifica a quelli che sono appunto i problemi dei cambiamenti climatici perché ogni città naturalmente ha una situazione diversa e dopo io farò tre esempi cioè l'esempio di Genova, l'esempio di Reggio Emilia e l'esempio di Roma sono esempi molto semplici che però mostrano come piccole azioni che si possono mettere in campo appunto con i piani di adattamento o ad esempio a Genova allora con il PAESC cioè il piano per l'energia sostenibile per il clima si possono ottenere comunque dei risultati importanti. Questa volta non prenderò in considerazione come la volta scorsa abbiamo indicato aspetti legati all'energia prenderò in considerazione soprattutto l'elemento del verde. I rischi che noi corriamo sono rischi diciamo gravissimi l'unico dato che vorrei ricordare poi dopo tanto le slide le potete andare a vedere è che durante i primi cinque mesi del 2023 si sono registrati 432 eventi climatici estremi che sono veramente tantissimi e comunque abbiamo assistito a fenomeni drammatici come uragani, tempeste tropicali, alluvioni, siccità, incendi, scioglimenti di ghiacciaio. Quindi a chi diciamo contesta la crisi climatica, contesta la necessità di contenere l'aumento appunto e l'incremento della CO2 io opporrei proprio questa situazione drammatica che riguarda poi tra l'altro e colpisce soprattutto appunto le città. Naturalmente le cause sono quelle che abbiamo sempre detto a partire dal disboscamento quindi ad esempio una risposta nelle città può essere quella di ripristinare la biodiversità o riforestare le città. Un altro tema grosso ma non lo affrontiamo è quello degli allevamenti intensivi e quello che diceva Federico Valerio si sta realizzando in modo molto chiaro cioè sappiamo appunto che la CO2 è passata da 270 parti per milioni in epoca preindustriale agli attuali 420 ppm e abbiamo anche visto come nelle nostre case questo aumento è considerevole ecco quindi incominciamo a familiarizzare con questo aspetto che riguarda appunto la CO2 altri temi che sono centrali e su cui io sorvolerò insomma sono appunto la cementificazione del suolo e naturalmente appunto dicevo la perdita di biodiversità. Quali sono le soluzioni? Le soluzioni sono naturalmente andare verso l'economia circolare, l'abbiamo già affrontato utilizzare fonti energetiche che non richiedano combustione quindi solare e olico e poi diciamo ecco avere una visione che possa metterci in campo per trovare delle soluzioni cosiddette basate sulla natura che sono soluzioni interessanti e importanti perché ci consentono anche tra l'altro di non sprecare appunto materia. Naturalmente ci sono tutti gli aspetti che riguardano il consumo energetico, gli incentivi alle fonti fossili ma io tralascio appunto di approfondire questi aspetti che mi soffermo appunto molto rapidamente proprio su alcune città che hanno assunto e hanno diciamo messo in campo dei piani che sono il piano di resilienza climatica della città di Torino. Se voi lo andate ad esaminare anche nei suoi aggiornamenti è un piano interessante perché cerca di capire come adattare la città a tutti quei fenomeni che sono collegati con i cambiamenti climatici. Qui faccio l'esempio delle ondate di calore, degli allagamenti. Abbiamo la città di Genova che ha messo in campo questa strategia dei piani urbani di resilienza. Ecco l'importante però è che questi piani non dovrebbero essere dei piani solo teorici quindi un documento che viene approvato in giunta poi messo da parte infilato in un cassetto e le azioni non vengono misurate ecco perché i rischi grossi che noi abbiamo sono proprio quelli di vedere che queste città spesso non rie... scusate il piani mio... i livelli di CO2 del tempo appunto dicevo sono aumentati... adesso scusate il mio cagnolino mi ha un po' distratto. Ecco prima di arrivare ai tre esempi e poi dopo io mi fermo che vi volevo fare che secondo me sono molto interessanti volevo fare solo un richiamo alla laudatosi di Papa Francesco perché credo che abbia evidenziato come ancora una volta questo tema centrale dei diritti ambientali di nuova generazione vada affrontato come prospettiva centrale cioè accanto ai diritti sociali, ai diritti civili e ai diritti politici si sono affacciati questi nuovi diritti di nuova generazione che però ancora una volta l'inciclica oggi noi non vediamo appunto assolutamente né realizzati né soddisfatti e l'enciclica appunto laudatosi è importante perché diciamo che dà uno sguardo di visione ecco e mette al centro questo tema della sostenibilità della vita sulla terra io ritengo che la terra come bene comune l'obbligo giuridico etico e religioso della prevenzione del danno ambientale l'obbligo di assicurare i diritti umani tra questi il diritto all'informazione, alla partecipazione, all'accesso l'obbligo di solidarietà in merito appunto ai diritti di terza generazione di fronte alla crisi del clima, dell'acqua e della biodiversità siano aspetti importantissimi e soprattutto è importante l'ha laudatosi perché apre la strada ad una nuova ecologia che è ispirata appunto alla giustizia tra generazioni e critica come avevano fatto abbiamo visto Vandana Shiva o Caroline Mershant poi vedremo anche un'altra figura secondo me di donne molto interessanti che hanno fatto questo tipo di analisi e direi l'elemento centrale è proprio questa critica dell'attuale modello di sviluppo di produzione e di consumo che non sono favorevoli all'ambiente e anche l'incapacità della politica di dare appunto una risposta fondamentale in un'ottica tra l'altro appunto solidaristico. Noi dobbiamo ascoltare come dice appunto Papa Francesco sia il grido della terra che il grido dei poveri e dobbiamo appunto soprattutto ridare alla natura quel ruolo e mi sembrava fondamentale ricordarlo e credo che ognuno di noi dovrebbe anche rileggersi proprio l'ha laudatosi in tutta la sua completezza perché ci propone appunto come ricordando San Francesco di conoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà. I temi che vengono affrontati sono quelli che noi vediamo oggi appunto che sono temi appunto gravissimi dalle sfide appunto ambientali globali su cui non mi soffermo, tutte le tipologie di inquinamento e allora quali sono i punti in cui le città possono avere un ruolo decisivo? Io penso che siano alcuni di questi, sono il verde sostenibile, l'economia circolare, la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica, le fonti rinnovabili. E allora parliamo appunto di alcuni esempi, innanzitutto il ruolo del verde urbano. Il ruolo del verde urbano è fondamentale perché svolge una funzione di compensazione ambientale, quindi abbattimento delle polveri, assorbimento della CO2, mitigazione degli agenti climatici, regolazione delle acque meteoriche, mitigazione e valorizzazione paesaggistica, effetti poi sugli edifici, sul traffico, prevenzione di malattie, maggiore sicurezza e friabilità e credo che a qui si avvicini anche un altro aspetto che è molto importante che è quello appunto delle esperienze locali che possono essere messe in rete e del ruolo centrale appunto dell'educazione ambientale. I vantaggi quindi, vedendo il verde urbano come risorsa, riguardano il benessere umano, ecologico, ambientale, paesaggistico e anche appunto il valore economico totale. Io quando ero a Reggio ho fatto fare una valutazione degli alberi per fare appunto la valutazione economica dei beni ambientali. E devo dire che questa era una strada che aveva intrapreso, me l'aveva suggerita appunto il magistrato Amedeo Postiglione, perché in effetti noi non ci rendiamo conto che accanto al valore appunto ambientale, ecologico, sociale, l'ambiente ha anche un valore economico che è fondamentale e che va comunque appunto anche in questo senso valutato. L'obiettivo nelle città dovrebbe essere proprio quello di costruire una rete ecologica, quindi l'esempio di Genova, e qui siamo su Genova, è la costruzione, come avevamo scritto nel piano del verde, di un verde territoriale, di cintura, per quanto riguarda Genova, del parco dei forti, delle mura, dell'acquedotto storico, di tutti i siti di interesse comunitario, verde strutturale, quindi i parchi ufficialmente riconosciuti, i giardini, le aree verdi, il verde connettivo, quindi le antiche creose, la mobilità dolce, il terzo paesaggio, e poi il verde funzionale, verde verticale, pensile, parcheggi, le barrieri, le siepi, le alberature, le aiuole stradali, il verde tecnologico che può svolgere una funzione importante perché appunto anche in questo caso, ma qui magari la professoressa Ranzoni dirà meglio di me, può svolgere quella funzione fondamentale di mitigazione ma anche di gestione delle acque, quindi verde pensile, verde verticale, barriere vegetali, alberi nei parcheggi, il rain garden, alcuni esempi appunto di come appunto il recupero nei confronti della natura, la conservazione della natura abbia degli effetti molto positivi anche sulla biodiversità. Pensiamo ai tesori che noi abbiamo, ad esempio nel territorio genovese, il gambero di fiume della Val Bisagno, il tarantolino di Torre Quezzi, gli aironi della foce del Polcevera, le salamandrine del rio Chiappeto, i parrocchietti di Palazzo Lomellini, le raganelle di Alvaro, sono tutti elementi di biodiversità che rischiano appunto di perdersi proprio con la perdita della funzione fondamentale del verde nelle città. E allora i tre casi studi che vi volevo far vedere, erano tre casi studi che non sono stati diciamo realizzati ma che mi avviso sono molto importanti e che sono. Questo è l'esempio dell'Osi, noi avevamo indicato tre nel piano del verde, nello studio preliminare del piano del verde, la riqualificazione del torrente Nervi, la valetta Rio San Pietro e l'Osi Foce del torrente Polcevera. E qui c'era proprio un progetto di fattibilità che avevamo messo in campo per trasformare appunto un luogo, poi dopo il crollo del ponte direi che è ancora più fondamentale, sarebbe ancora più fondamentale appunto riprendere in mano comunque ovviamente riadattandoli questi progetti che prevedevano appunto un cambiamento totale nel luogo della città ripristinando e restituendo alla città quella sua funzione fondamentale. A Reggio avevamo invece indicato l'esempio del piano del verde del comune di Reggio Emilia, quindi mentre a Genova abbiamo fatto questo studio preliminare sul piano del verde restituendo appunto un verde alla città di Genova che poteva avere una funzione fondamentale proprio per affrontare quelle sfide concrete che riguardano i cambiamenti climatici che in quell'esempio del Polcevera che vi ho fatto comunque mostrano come si possano fare dei cambiamenti piccoli ma significativi. Il piano del verde del comune di Reggio Emilia prevedeva anche in questo caso appunto una valorizzazione di queste aree immense, di territorio agricolo, di aree naturalistiche, di cunei verdi, di spazi verdi urbani e anche qui abbiamo fatto alcune cose, le abbiamo realizzato come appunto ripristino di alcune aree, siti di interesse comunitario che sono stati effettivamente ripristinati, altre invece sono rimaste solo sulla carta come questo esempio che vi faccio che a me piace moltissimo e che è una revisione completa appunto degli interventi sui viali centrali appunto di Reggio Emilia che prevedevano la riduzione delle carreggiate, l'aumento delle aree verdi, l'aumento del verde diciamo e soprattutto la creazione di spazi diciamo sia pedonali che ciclabili importantissimi per restituire alla città una sua immagine visibile. Questo era lo studio che avevo fatto fare proprio che avrebbe trasformato un luogo che oggi è solo un luogo di traffico in un luogo invece vissuto appunto dalle persone, quindi con spazi diciamo sia ciclopedonali che pedonali, con un incremento appunto del verde in tutta la circonvalazione della città per raggiungere da ogni punto della circonvalazione della città interna il centro storico della città. Secondo me questo è un progetto come quello del Polcevera, molto importante, che andrebbe nella direzione proprio del ruolo centrale delle città rispetto a questa grande sfida. A Roma invece avevamo fatto un grande piano di riforestazione urbana con il compianto amico Lomicisi che si fondava sostanzialmente innanzitutto su un incremento appunto delle aree verdi per aumentare la resilienza della città, conservare e proteggere la grande biodiversità di Roma, diminuire il rischio appunto delle ondate di calore, evitare le inondazioni, migliorare la qualità dell'aria, migliorare la qualità della vita urbana. Quindi era stato iniziato un progetto proprio di verifica con i municipi e il Dipartimento di Tutela Ambientale per andare appunto a incrementare del 100% al 2030 appunto gli alberi. ne abbiamo piantati circa 30.000 ma naturalmente l'obiettivo al 2030 era quello appunto di una importante riforestazione che prevedeva anche momenti di comunicazione e informazione con le scuole, di azioni di crowdfunding che abbiamo fatto per alcuni alberi, di attivazione di fondi comunali, municipali, regionali e nazionali e il coinvolgimento diretto dei cittadini con donazioni di alberi e in questo caso appunto dicevo interventi dovevano riguardare anche gli orti urbani, i tetti verdi, le aziende e i vericoli comunali. In questo senso mi sembra che la città diciamo sono stati effettivamente piantati almeno quelli questi qui a reggio 100.000 alberi durante il periodo in cui ho svolto il ruolo amministrativo e 30.000 alberi a Roma ma naturalmente è un processo che dovrebbe andare e prendere una direzione diciamo positiva e non purtroppo negativa. Stessa cosa appunto il ruolo poi delle piccole azioni, ecco qui ricordo molto appunto la Francesca Neonato e le sue indicazioni sul valore delle piccole azioni quindi rigenerare i bordi dei corsi d'acqua, consentire la faccia e il contatto con l'acqua, promuovere queste aree protette sì che come abbiamo fatto a Reggio in alcuni casi, promuovere gli orti urbani, favorire diciamo incoraggiare le attività di community garden, rivitalizzare le aree verdi periferiche ecco promuovere il verde terapeutico, le aree multiuso quindi le città possono fare tantissime azioni per andare appunto in questa direzione e io penso che le città possano avere un ruolo fondamentale se no il rischio è proprio la perdita delle capacità tradizionali questo è un classico esempio appunto di come un territorio abbandonato poi piano piano appunto si perde il suo ruolo fondamentale e quindi la tutela degli alberi, la tutela del territorio, la manutenzione la valorizzazione, la salvaguardia insomma ci sarebbe da fare più che da fare da parte di una pubblica amministrazione oggi noi appunto io voglio chiudere con questa frase solo che in grado di leggere e interpretare i segni dei tempi è anche capace di comprendere se stesso i suoi simili e il mondo in cui viviamo e di intervenire su di essi in modo efficace al passo quei tempi chi pensasse di poter trascurare questi segni non solo precluderebbe ogni possibilità di creare una qualsiasi cultura autentica è perciò valida ma ribarrebbe probabilmente spettatore inerte del proprio tempo viaggiatore straniero nelle terre del presente quindi noi dobbiamo sapere leggere appunto i segni dei tempi siamo invitati appunto ad una partecipazione attiva a un nuovo stile di vita come ci ricordava appunto anche la Laudato Si qui cito proprio un punto che è Laudato Si 111 che a mio avviso è fondamentale perché parla proprio di una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico e la promozione di una vera cultura ecologica di un pensiero, di una politica, di un programma educativo di un nuovo stile di vita in questo senso ecco ritorno appunto all'ecofeminismo perché questo corso nasce nell'ottica dell'ecofeminismo per ricordare come il libro di Caroline Merchant La morte della natura indicava proprio la strada verso una nuova impostazione di relazioni etiche con la natura superando questa idea di dominio per andare verso appunto una cooperazione dinamica tra esseri umani e natura Io penso che questo aspetto è fondamentale Un'altra figura importante è stata appunto una donna che è una sociologa, professoressa e militante politica che ha scritto anche dei testi assieme appunto a Vandana Shiva in particolare a Ecofeminist nel 1993 che è Maria Nies Il suo ruolo è stato fondamentale non solo per le sue battaglie come diciamo donna ecofeminista ma si è posta i grandi problemi appunto dell'ingegneria genetica della tecnologia riproduttiva della relazione tra capitalismo, patriarcato e colonialismo ma soprattutto del ruolo fondamentale appunto delle donne per una giustizia sociale ed ambientale e riteneva che una nuova metodologia dovrebbe essere messa in campo per affrontare appunto anche questo cambiamento di cultura necessario Io ribadisco e chiudo che la società sostenibile esisterà se appunto le città avranno un ruolo decisivo la sostenibilità passa attraverso un ruolo centrale delle città Ringraziamo Pinuccia Montanari per il suo intervento e diamo subito la parola a Maria Rosa Ronzoni che era la seconda relatrice Maria Rosa Ronzoni è un ingegnere ha lavorato presso l'Università degli Studi di Bergamo occupandosi di tecnica e pianificazione urbanistica è un membro del Comitato Scientifico di Ecoistituto Reggio Midia Genova la sua esperienza è di mobility manager quindi sul grosso problema della mobilità negli ambiti urbani e i suoi interessi vanno dalla dimensione locale a quella urbana sempre con l'obiettivo di garantire una migliore qualità di vita a tutti quanti la parola a Maria Rosa Ronzoni Grazie dunque io qui però non ho la possibilità di condividere lo schermo non puoi devi cliccare su condividi schermo il pulsante verde al centro la barra in basso come mai? apri la finestra a tutto schermo intanto intanto poi taglieremo quindi non cioè come mai non la vedi? taglia adesso la vedo grazie sono a posto grazie vediamo ah sta arrivando perfetto sta arrivando ecco a posto dovresti solo metterla a tutto schermo se riesci adesso ci è arrivata bene ok buonasera a tutti il ruolo delle città è la partecipazione dei cittadini sì in realtà io ho sviluppato il mio contributo secondo questi punti cioè ce lo chiede l'Europa come risponde l'Italia la mia ricerca e l'esempio della Germania nell'ambito della parte relativa alla mia ricerca mi soffermerò sul ruolo delle città ma sono fermamente convinta e la bellissima relazione della professoressa Montanari che mi ha preceduta l'ha reso chiaro come sia necessario avere un inquadramento a livello nazionale all'interno del quale poi si possano andare ad inserire le diverse caratterizzazioni delle città ogni città ha una propria storia ha le proprie soluzioni ma ci deve essere uno schema all'interno del quale collocarsi e questo qui da noi spesso manca e devo dire proprio proprio tristezza vedere delle iniziative dei progetti bellissimi come quelli che ci ha presentato la professoressa Montanari non vederli vedere la luce ecco questo è una cosa che era trista molto perché in realtà siamo bravi in Italia e meriteremmo molto di più allora ce lo chiede l'Europa voleva sottolineare come per quanto riguarda il clima nel 2019 si è deciso che nel 2050 l'Europa si sarebbe dovuta in Europa si sarebbe dovuta raggiungere la neutralità climatica cioè si dovrà raggiungere questo significa emettere in atmosfera una quantità di gas clima alteranti tale da poter essere assorbita dall'ambiente naturale vale a dire da foreste, oceani e suolo per far questo i paesi membri devono ridurre drasticamente le loro emissioni e trovare il modo di compensare quelle non eliminabili è stato poi individuato un obiettivo intermedio al 2030 per arrivare a ridurre le emissioni come minimo di un 55% ma non è solo a livello europeo che ci si sta impegnando per contrastare i cambiamenti climatici mi faceva piacere ricordare gli SDG gli SDG sono 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nel 2015 per il 2030 da 150 leader internazionali che si sono incontrati alle Nazioni Unite per contribuire allo sviluppo globale promuovere il benessere umano e proteggere l'ambiente tra questi 17 obiettivi il tredicesimo obiettivo fa piacere ricordarlo parla di promuovere le azioni a tutti i livelli per combattere i cambiamenti climatici quindi vedete siamo siamo in tanti impegnati su questo fronte un altro un altro diciamo ente ente un altro gruppo che volevo ricordare che è comparso anche nelle slide precedenti è l'IPCC il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici è un organismo internazionale preposto alla valutazione delle evidenze scientifiche relative ai cambiamenti climatici è stato istituito nel 1988 per fornire ai decisori politici valutazioni periodiche delle basi scientifiche del cambiamento climatico dei suoi impatti e dei rischi futuri nonché delle opzioni di adattamento e mitigazione le valutazioni sono rilevanti per la politica ma non prescrittive a livello politico possono presentare proiezioni dei futuri cambiamenti climatici basati su diversi scenari e sui rischi che il cambiamento climatico comporta e discutere le implicazioni delle opzioni di risposta ma non dicono ai politici quali azioni intraprendere come risponde l'Italia a tutto questo a tutt'oggi manca una legge quadro sul clima risponde con le città abbiamo visto le numerose iniziative che ci ha ricordato la professoressa Montanari ma come diceva anche lei precedentemente come ha sottolineato il rischio è che rimanga tutto in un cassetto perché perché manca un quadro nazionale che che indica la strada all'interno della quale tu ti devi collocare con delle valutazioni con delle comparazioni che permettono che ti obbligano a rispettare quello che tu fissi e proponi di fare c'è un decreto clima del 2019 con l'allora ministro Costa ma il decreto clima è più ha più delle misure incentivanti che non strutturanti abbiamo il PNEC PNEC Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima che è un documento strategico che ha però un orizzonte decennale e il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici che attualmente è sottoposto a VAS la mia ricerca ecco nell'ambito della mia ricerca io volevo presentare un lavoro di tesi che ho promosso e seguito e voluto a Bergamo nel lontano anno 1999-2000 il titolo di questo lavoro era indirizzi di piano disunti dall'elaborazione della carta climatica di Bergamo in questo lavoro ho cercato di far emergere come sia importante avere attenzione agli aspetti climatici come sia importante studiarli prima di andare a definire le ipotesi di sviluppo prima di progettare un territorio e il lavoro è stato molto diciamo importante e è complesso e lungo e quindi qui cercherò di sottolinearlo in modo come posso dire in modo più breve il clima urbano cosa fa abbiamo cercato di la climatologia urbana abbiamo cercato di capire cosa va a fare e l'abbiamo definita come quella scienza che studia le correlazioni esistenti tra il centro abitato da una parte e le condizioni climatiche dall'altra il suo obiettivo consiste nell'identificare le possibilità naturali e tecniche che permettano di sfruttare le influenze reciproche nell'intento di pervenire un habitat sano e correggere le influenze sfavorevoli o nocive la climatologia che va a guardare agli aspetti architettonici urbanistici comporta che un'urbanizzazione disattenta alle condizioni climatiche del luogo conduca ad uno stravolgimento sostanziale dell'equilibrio naturale preesistente e in quest'ottica abbiamo ritenuto assumo un'importanza fondamentale l'analisi delle influenze che il costruito esercita sui fenomeni microclimatici locali cos'è il clima? il clima è formato dall'insieme dei fenomeni che compaiono più di frequente e più costantemente nel normale susseguirsi delle stagioni e che esercitano pertanto una particolare influenza sia sulle condizioni ambientali che su quelle sociali questi fattori abbiamo fattori meteorologici e fattori geografici i fattori meteorologici sono la temperatura le radiazioni le precipitazioni i venti l'umidità i fattori geografici sono l'altitudine l'esposizione e la latitudine abbiamo poi le varie classificazioni del clima il macroclima il mesoclima il clima locale il microclima lo vediamo qui rappresentato e noi soprattutto abbiamo lavorato nell'ambito del microclima che ha una distribuzione orizzontale da un centimetro a cento metri e una distribuzione verticale da un centimetro a dieci metri alla fine il nostro lavoro ha comportato la realizzazione di una carta climatica per il territorio del comune di Bergamo che è andata a definire i microclimi presenti in questi in questi ambiti e in conseguenza di questi microclimi individuati siamo andati poi a proporre una carta degli indirizzi di piano e quindi siamo andati a definire quali fossero e qui ci sono anche quegli aspetti non ho il tempo per approfondire e per enunciarli in modo più chiaro ma ci sono anche quegli aspetti del verde sono stati considerati quindi non so i filari gli elementi di verde compatto importante che andavano mantenuti o rafforzati proprio per portare quei benefici che magari quell'ambito richiedeva è stato un lavoro importante come dicevo e interessante la Germania scusate se sono così rapido e salto da un tema all'altro ma sono tutti aspetti che mi faceva piacere sottolineare e ricordare insieme a voi dopo aver visto come in Italia al momento anche se ci stanno lavorando manca ancora una legge quadro sono andata a guardarmi il Clima Schutz Program del 2023 del Ministero federale dell'economia e della protezione del clima nell'aggiornamento al 2023 e ho scritto ho tradotto alcune parti alcune frasi della introduzione alla legge perché secondo me sono significative sono cose semplici come al solito ma sono significative di quello che si dovrebbe fare il governo federale ha la responsabilità di affrontare la crisi climatica con la massima determinazione possibile anche per proteggere la libertà delle generazioni future la transizione verso la neutralità climatica offre molte opportunità per un futuro migliore si tratta di rendere l'economia tedesca capace di interpretare il futuro adattandosi garantire posti di lavoro esistenti e crearne di nuovi mantenere un buon stile di vita per tutti gli abitanti si tratta di rendere la mobilità la fornitura di elettricità e di calore rispettose dell'ambiente e di conseguenza del clima ma anche con l'occasione renderle migliori e meno costose e finalmente renderci indipendenti dall'importazione di energia prodotta con il fossile cioè sono poche parole ma mi pare per me sono chiarissime e delineano una strategia di intervento efficace affinché la transizione verso la neutralità climatica abbia successo deve essere socialmente equa ed economicamente sensata di fronte alle enormi sfide all'urgenza occorre guardare alla protezione del clima alla politica economica e all'equilibrio sociale in modo integrato e strettamente connesse tra loro devono lavorare in rete a sistema più di quanto non si sia fatto in passato ciò si riflette ad esempio nella promozione delle tecnologie future nella decarbonizzazione dell'industria nel garantire la competitività tutti questi ecco perché oggi la Berbock in televisione la televisione tedesca ha sottolineato come non possa condividere quello che si stava delineando a Dubai perché chiaramente loro hanno detto chiaramente cosa vogliono fare tutti questi elementi sono componenti fondamentali di una politica climatica orientata al futuro la protezione del clima è inoltre un elemento di preso nella risposta del governo federale all'attuale crisi energetica la Germania deve superare quanto prima possibile la sua dipendenza dei combustibili fossili attraverso il potenziamento delle energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica quali sono i settori su cui è intervenuta e anche qui è un punto di contatto con quello che è stato detto poc'anzi dalla professoressa Montanari ha ricordato i PAES i SEAP ecco il modo di procedere di questa legge è molto simile a quello che abbiamo fatto che è stato fatto nei SEAP in questi piani di azione per l'energia sostenibile i settori su cui intervenire sono la produzione di energia l'industria gli edifici il traffico l'agricoltura e l'uso del suolo io mi sono soffermata solo sulle misure introdotte nell'ambito del traffico sono andata a leggermele ecco vedete rafforzano il trasporto su ferro e lavorano e investono su questo settore e quindi qui c'è tutto l'elenco ricorderò solo il miglioramento della banca a cento perché leggerli tutti prenderebbe troppo tempo anzi ne ricordo due qui miglioramento della banca a cento che è una carta ferroviaria che permette di viaggiare con un abbonamento che costa l'abbonamento per una persona normodotata costa 383 euro al mese poi per le persone per sotto i 25 anni o sopra i 65 ci sono degli sconti tenete presente però che in Germania c'è anche la la carta da 49 euro che permette di viaggiare con 49 euro al mese sui treni regionali mentre la banca a cento permette di viaggiare su tutti i treni e anche sul trasporto pubblico locale sugli autobus l'altra voce che volevo sottolineare qui è il sostegno alla mobilità attiva la mobilità attiva è il muoversi a piedi o in bicicletta e viene viene diciamo preso in considerazione una cosa che spesso viene dimenticata al muoversi a piedi invece qui in questa legge viene ricordato anche questo aspetto il potenziamento dell'impiego dei combustibili sintetici e ci sono tutta una serie di azioni che vengono prese in considerazione e poi ci sono le energie rinnovabili i contributi introdotti per il trasporto aereo e marittimo tra cui vedete contributi questo penso possa interessare a noi dell'equistituto contributi finanziari per la costruzione dei sistemi costieri per la fornitura di corrente poi anche è interessante i voli a impatto climatico zero e gli aeroporti rispettosi del clima promozione di un programma di ricerca marittima e navi a impatto climatico zero quindi vedete com'è ben strutturata questa legge e queste sono solo le azioni legate al settore dei trasporti poi per ogni settore ne sono individuate con tutti i finanziamenti necessari tutte le varie azioni la digitalizzazione la pianificazione del territorio del traffico e la gestione della mobilità questa è la legge sul clima tedesca e mi faceva piacere brevemente richiamarla un ultimo punto che volevo sottolineare che si riallaccia a quello anche questo a quello che è stato detto precedentemente lo studio sui tip points i punti limiti i punti critici nel mondo naturale i punti critici o punti di non ritorno rappresentano alcune delle minacce più gravi affrontate dall'umanità il loro innesco danneggerà gravamente i sistemi di supporto vitale del nostro pianeta e minaccerà la stabilità delle nostre società di questa cosa ne avevamo parlato forse tu Federico Valerio avevi parlato avevamo detto ne parliamo tutti siamo consapevoli ma sembra che solo noi discutiamo di queste cose gli altri non se ne preoccupino ecco questo lavoro veramente spaventa spaventa perché fa capire come oltrepassato un certo limite anche la scienza forse fa fatica a trovare gli strumenti giusti per affrontarli quindi la situazione di pericolo in cui ci potremmo trovare credo che sia un lavoro molto molto importante e qui cita appunto alcuni di questi punti critici che sono stati qualcuno è stato citato anche prima dalla professoressa Montanari e in questo momento cinque importanti punti critici rischiano di essere superati a causa del riscaldamento e altri tre sono minacciati per il 2030 quando il mondo avrà superato come probabilmente sembra la soglia di un grado e mezzo il danno totale causato dal superamento dei punti critici è molto maggiore del loro impatto iniziale gli effetti possono riversarsi a cascata sui sistemi sociali ed economici globalizzati e potrebbero superare i limiti della capacità scusate di adattamento di alcuni paesi si evidenziano punti di non ritorno negativi che la minaccia posta dalla crisi climatica ed ecologica è molto più grave di quanto comunemente si creda di una portata mai affrontata prima dell'umanità guardate io sono arrivata a questo guardando il telegiornale l'altra mattina tedesco ne hanno parlato in televisione in Germania quindi sapendo che dovevamo vederci per questo incontro sono andata poi a ricercarmi questa cosa e mi sono letta tutto il documento superare un punto critico potrebbe innescarne altri provocando un effetto domino di accelerazione e cambiamento ingestibile ai nostri sistemi di supporto vitale prevenire questo e farlo in modo equo dovrebbe diventare l'obiettivo e la logica principale di un nuovo quadro di governance globale la prevenzione è possibile solo se le società e i sistemi economici si trasformano per ridurre rapidamente le emissioni e ripristinare la natura questo adesso non sto a elencarli perché ve li potete trovare occorre quindi innescare punti di svolta positivi e questo lo si può fare soprattutto costruendo delle società resilienti che in sostanza è quello che avevi detto anche tu prima Pinuccia quindi siamo l'esistenza dei punti critici significa che è finita l'ora del business as usual si stanno verificando rapidi cambiamenti e nella natura e nella società ne stanno arrivando altri se non rivediamo il nostro approccio di governance questi cambiamenti potrebbero travolgere la società quindi i tip point positivi aiutano ad accelerare una trasformazione verso la sostenibilità un punto di non ritorno ho voluto finire e concludere con un aspetto positivo quindi un punto di non ritorno positivo può attivare gli altri creando un effetto domino del cambiamento attivare punti di non ritorno positivi richiede una società che agisce in modo resiliente ecco ho finito il mio contributo grazie a Maria Rosa Ronzoni diciamo che l'esempio che queste cose sono dei paesi come la Germania che si occupano e si interessano a come poter affrontare questa grave crisi è un segno positivo ovviamente lo scenario che ci mostra il nostro paese e l'Italia sono un pochino più sconsolanti concludiamo questa carrellata di interventi su questo tema molto importante con l'intervento di Enzo Tortello Enzo Tortello è un ingegnere elettrotecnico ha lavorato per diversi anni all'ansaldo energie e si è occupato sostanzialmente appunto di grandi motori per la produzione di energia elettrica diciamo come progettista e anche come docente perché ha fatto ha tenuto dei corsi su questa tematica presso l'università di Cagliari attualmente è presidente dell'Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova dove si occupa insieme a altre associazioni di cui è presidente si occupa del grande tema della qualità dell'aria e quindi a lui adesso la parola ecco poi alla fine del suo intervento sono aperte le eventuali discussioni io invito eventualmente potete già farlo mettere sulla chat eventuali domande oppure sollevare poi l'alzare la mano per farvi passare la parola appunto quando Tortello avrà concluso il suo intervento a te Tortello Enzo grazie penso al microfono acceso no Enzo il microfono spento dovrebbe essere arrivato ecco la non è ancora spento dovrebbe essere arrivato un messaggio per attivarlo ora è acceso ora è acceso? sì sì avrei adesso sarà sparito condividi la condivisione c'è devi aprire il tuo powerpoint la condivisione c'è era aperto ma come al solito ma l'hai chiuso l'hai chiuso allora se fai pieno schermo e poi ci siamo eh se riuscissi presentazione non mi prende il comando devi fare presentazione dall'inizio vedo che l'hai aperto ecco ora se clicchi su dall'inizio la prima voce sei a posto ecco grazie figurati per il consueto allora io parlerò darò qualche numero e parlerò delle comunità energetiche rinnovabili sostanzialmente così sentendo i discorsi degli altri mi è venuto in mente che il clima è maschio e le comunità energetiche rinnovabili sono femmine quindi molto positive direi allora qua abbiamo parlato del solito della riduzione della CO2 del 55% questi qua ormai sono numeri che tutti quanti avranno in testa e per cui è la neutralità climatica entro il 2050 eh se ricordate quanto avevo detto nella unità didattica 3 il parco per la generazione elettrica di 120 gigawatt e attualmente la cioè nel 2020 la parte rinnovabile era di circa il 50% corrispondente a solare eolico per 31 gigawatt quindi più o meno un po' più di un quarto elettricità futura che è un'associazione di diciamo diverse compagnie era era pronta di installare 60 gigawatt in tre anni già dalla primavera di quest'anno però non è stato possibile cosa l'ha impedito i problemi burocratici problemi burocratici che eh tutto sommato hanno finora e continuano per il momento anche se le speranze sono molto elevate diventate a eh diciamo a bloccare un po' la 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 questione lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili cosa si intende con eh comunità energetiche rinnovabili eh dice si intende un'associazione tra cittadini attività commerciali pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonte rinnovabili questa è la ed è molto molto importante eh qui ho fatto un elenco sostanzialmente di eh tutte quelle che sono le 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 caratteristiche del eh delle comunità energetiche rinnovabili eh richiamando la direttiva europea RED2 che è la base di per tutto quanto è venuto dopo a livello eh legislativo e direi che questa qua la lasciamo poi ehm leggere tranquillamente a chi si guarderà il corso diciamo che eh è importante l'ultimo obiettivo quello cioè l'obiettivo principale delle CER è fornire benefici ambientali economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o le aree locali in cui opera piuttosto che profitti finanziari questa è una cosa determinante che non bisogna mai dimenticare qua c'è l'elenco dei dei vari eh delle varie direttive via dicendo eh se andiamo a vedere al secondo punto c'è eh nel decreto mille prodore eh parzialmente recepita la RED2 nel duemiladiciannove e eh al momento nove dicembre del duemilaventitré non è ancora stato pubblicato il il decreto delle CER finale eh bisogna però dire che è stato da poco eh autorizzato rilasciato da Bruxelles che l'aveva in esame noi avevamo raccomunque accumulato molti molto ritardo e eh il decreto dopo una eh diciamo eh discreta analisi è stato eh trasferito a Bruxelles nella primavera del 2023 come vediamo eh in pratica dal dal 2019 siamo slittati fino a fine 2023 come avevo già detto prima eh qui segnaliamo di nuovo in modo più eh importante i vari vantaggi benefici per il clima vantaggi economici per il cittadino socio nuova opportunità economica per il territorio su questo si insiste molto perché eh si vuole dare a queste comunità energetiche rinnovabili un senso sociale per il territorio e questo va bene il quarto punto è un un punto prettamente tecnico che è l'azzeramento delle perdite di trasporto sulla rete perché come al solito lo Stato non è che faccia niente per niente per cui eh quello che eh dal punto di vista tecnico sta cercando di evitare è proprio questo trasferimento di energia lungo la rete quindi facendo sì che chi produce il cittadino o una piccola impresa possa mettere a disposizione l'energia intanto ne autoconsumi quello che gli serve e l'altro la metta eh a disposizione del dell'altro socio in modo che questa energia non è che corra per tutta l'Italia ma viene localizzata in una zona eh molto molto piccola questo è sono le novità introdotte dal decreto eh che è stato proposto a in bozza a Bruxelles e autorizzato che eh si è passati da 200 kilowatt a un megawatt come potenza massima dell'impianto i 200 kilowatt erano la potenza di riferimento fino all'altro giorno infatti eh non ci sono molte comunità energetiche eh rinnovabili già ehm diciamo realizzate in Italia ma quelle per essere definite CER quindi comunità energetiche rinnovabili avevano un limite di 200 kilowatt eh adesso c'è la possibilità di collegarsi alla cabina primaria mentre prima ci si doveva limitare come zona a la cabina secondaria quindi un'area molto ristretta che abbiamo allargato enormemente eh ad esempio tanto per dare paesi vicini in in campagna potevano essere tranquillamente sotto due cabine primarie quindi non potere rientrare nella qualifica di comunità energetica rinnovabile con eh riconoscimento ovviamente degli incentivi c'è una tariffa incentivante che dura vent'anni fatta con il nuovo eh decreto da una parte fissa in funzione della taglia dell'impianto ed una parte variabile col prezzo di mercato dell'energia c'è una maggiorazione tariffaria eh sempre a favore in base alla zona geografica poi ci sono eh degli ulteriori vantaggi che assolutamente non vanno trascurati che corrispondono al finanziamento del 40% a fondo perduto dell'investimento per comuni con meno di 5.000 abitanti questa è una un'introduzione molto eh di un aspetto molto interessante che sembra che fosse stata causa del ritardo nell'approvazione a Bruxelles del decreto per il semplice motivo che poteva configurarsi in aiuto di Stato quello che ho detto prima lo vediamo qui non è farina del mio sacco è stato preso direttamente da da quello che ha distribuito il ministero per l'ambiente e l'energia il Mase e dice quindi che la tariffa incentivante cioè quanto viene remunerato a fine anno a chi ha scambiato energia varia a seconda della potenza dell'impianto e sono particolarmente favoriti favorite le potenze inferiore ai 200 kilowatt che erano già considerate comunità energetiche rinnovabili se rinnovabili in passato poi c'è una seconda taglia che un range che va tra 200 kilowatt e 600 kilowatt e poi c'è una potenza superiore ai 600 kilowatt e ricordiamo comunque che ha come limite il megawatt poi come vediamo c'è un'altra un'altra tariffa variabile quella che è la parte variabile indicata lì sopra che dipende dal prezzo dell'energia in quella zona quindi una parte fissa viene incentivata che corrisponde alla potenza dell'impianto e poi c'è una parte variabile che è legata a quello che è il prezzo di mercato dell'energia in più c'è un'ulteriore incentivazione di 4 euro al kilowattora e di 10 euro al kilowattora in un certo numero di regioni come si può vedere chi non ha maggiorazione tariffaria sono le regioni del sud ma è abbastanza chiaro perché le regioni del sud hanno un periodo di produzione maggiore c'è più solo insomma adesso vediamo come dicevo un attimino fa il periodo di produzione giornaliero abbiamo che c'è una prima parte della giornata in cui in pratica non viene consumata energia da il socio della comunità energetica cioè a inizio mattinata diciamo la gente di solito a casa non c'è poi e c'è una produzione contemporaneamente una certa produzione poi c'è la parte del che va da mezzogiorno diciamo alle 14 15 dove abbiamo in genere un picco di generazione perché il sole è chiaramente al massimo livello giornaliero e in questo caso come vedete c'è questa questa zona delimitata dalla curva rossa e in arancione che dice tutta l'energia che produciamo in questo periodo o va messa a disposizione della rete quindi va riversata in rete oppure va a caricare delle nostre batterie queste batterie di accumulo servono per avere praticamente energia quando a mattino presto e alla notte dove gli impianti non producono ovviamente quindi in teoria c'è tutto questo discorso dimensionare questo oggetto che è un sistema di accumulo in modo tale da avere energia anche nei periodi in cui non c'è produzione quando ovviamente è notte o il sole è piuttosto pallido e va praticamente a sversare l'energia che c'è in questa batteria nei nostri impianti negli impianti ovviamente dei soci della comunità energetica una cosa che va assolutamente ricordato che non si può diciamo diventare soci e fare soltanto da produttori perché si configurerebbe un discorso cioè se ci fossero due soci uno produce e l'altro consuma abbiamo un rapporto economico commerciale che non è concepito dalle CER le CER partono nel presupposto che ognuno consumi produca e consumi una parte dell'energia poi quella che avanza viene come detto o messa nei sistemi di accumulo in modo da averlo disponibile quando non c'è generazione oppure viene riversata in rete con la valorizzazione che dicevamo prima di mercato non è che obiettivamente sia conveniente vendere energia a meno che un domani non sia possibile a un certo punto immagazzinarla in i nostri sistemi di accumulo e venderla alla rete nel momento in cui c'è massima richiesta però questo è un tipo di servizio particolare che non diciamo per il momento viene soltanto in qualche modo intravisto ma non non è che sia la base della nostra comunità energetica c'era un momento in cui addirittura il fatto di immagazzinare energia per darla successivamente alla rete non veniva considerata come energia proveniente dalla comunità energetica perché non era cioè anche se all'inizio era stata prodotta con impianto solare comunque era stata immagazzinata per cui si diceva ma no quando io la prelevo viene da una batteria e quindi non è un'energia rinnovabile comunque questi sono sono qui squiglie rispetto a quelli che sono i problemi generali e la inquadratura generale della comunità energetica rinnovabile qui ci sono sette punti che possono essere utili per costituire una comunità energetica rinnovabile e sono punti che erano stati sintetizzati sono stati sintetizzati dal professor Taltaglia dice un incontro informativo con i soggetti interessati raccolta delle agizioni di partecipazione verifica dei confini della cabina secondaria prima adesso va bene la primaria e progetto per eliminare quattro studio di fattibilità con partner tecnico questo dello studio di fattibilità secondo me è una cosa importante per il semplice motivo che bisogna ottimizzare non è che uno dice vabbè metto tutti i pannelli che mi capita e poi a un certo punto faccio un grossissimo volano una specie di batteria enorme che risponde a tutte le mie esigenze economicamente non sta in piedi cioè la definizione della potenza di generazione e soprattutto del discorso dell'accumulo è fondamentale per la redditività anche di queste comunità energetiche renovabili e necessita appunto l'intervento di un tecnico poi ci sono la definizione dei ruoli lo statuto e la costituzione legale della società sei realizzazione dell'impianto di energie rinnovabili e sette la richiesta GSE di attivazione della comunità energetica questi sono fondamentalmente poi qualcuno ne mette sei qualcuno ne mette di più dipende un po' qual è il numero dei soci ideali allora qui abbiamo un esempio della prima pala eolica comunitaria da 900 kilowatt di picco che è stata realizzata a Gubbio genera 2 kilowattora all'anno per 900 famiglie quindi non è tantissimo ed è questa una bella comincia a essere una bella pala come dico è quasi da un megawatt per cui sarebbe oggi se costruita adesso praticamente al limite superiore delle comunità energetiche rinnovabili e quindi per quale potrebbe giovarsi di incentivo questa è invece la prima CER solidale solare di San Giovanni Alteduccio di Napoli ormai di questa è diventata veramente famosissima e costituto aveva anche fatto una ha tenuto una lezione su un'intervista a Catiusha Eroe di Legambiente che si era occupata proprio della realizzazione di questo impianto scusate impianto che è di 53 kilowatt di picco 60 megawatt ora all'anno è praticamente la società è fatta dalla fondazione famiglia di Maria quindi un organo religioso e di 40 famiglie l'obiettivo è importante perché l'obiettivo è che sostanzialmente queste famiglie indigenti ricevono 300-400 euro l'anno di bonus e per loro non è neanche una cosa tanto disprezzabile questi sono i punti tetti di questa comunità energetica ho fatto un piccolo richiamo perché trovere che se qualcuno va a leggere trova anche l'addizione check che non sono esattamente la stessa cosa non ha quegli obblighi che dicevamo per tra il fatto che uno deve generare utilizzare e via dicendo tutto insommato in porzioni abbastanza significative e in più ha un aspetto che la caratterizza non è necessario che gli impianti siano da fonti rinnovabili quindi la check accetta di fatto anche non so turbine a gas turbine a gas cose del genere mentre nel caso di CER le sono incentivate esclusivamente intanto perché gli si è data la dignità di CER devono praticamente produrre solo da energia rinnovabile sono abbastanza antiche alcune comunità energetiche anche se non sono state classificate in quell'ambito lì di tipo che utilizzano l'energia idraulica soprattutto in montagna ce ne sono di vecchissime qui mi chiedevo il futuro delle CER qual è allora qua avevo ritagliato un articolo di giornale che era relativo a un'intervista di Picchetto Frattini se vediamo abbastanza recente 6-7 mesi fa quando aveva mandato il decreto a CER a Bruxelles avevamo 1750 comunità energetiche in Germania e in Italia 31 quindi lascio a voi giudicare praticamente siamo uno degli ultimi in Europa anche se diciamo Belgio Polonia e Spagna non è che ne avessero molto di più la stessa Francia che fa molto utilizzo di nucleare ne aveva già installato più di noi l'incentivo in tariffa ne abbiamo già detto prima c'è il discorso della parte fissa della parte variabile in relazione al megavattora scambiato perché ricordiamoci se non scambiassimo nulla non abbiamo nessun incentivo zero viene fatto proprio perché non so tanto per prendere un esempio anche se non è il più calzante in un condominio a un certo punto se io genero in questo momento e la persona che abita di sopra di me sta utilizzando energia sta utilizzando l'energia che io sto generando questa questa energia viene incentivata con quella cifra che dicevamo questo può anche portare ad avere delle modifiche nei comportamenti perché da un certo punto di vista non so se uno pensionato può utilizzare l'energia nel momento che tutti quanti sono magari fuori se diciamo oltretutto io ho da fare delle cose che sono utilizzare delle cose molto energivore degli equipaggiamenti molto energivori chiaramente mi conviene andare a utilizzarle quando c'è il massimo della generazione quindi cambia un po' anche il nostro approccio a quello che è il consumo perché è anche un aspetto sociale proprio perché è un'integrazione tra i miei consumi la generazione e i consumi degli altri allora in quello che è comunque e questo secondo me è un po' l'aspetto critico perché positivo e negativo del decreto è che la potenza massima agevolabile quindi il massimo degli impianti che possono essere agevolati entro il 31 dicembre 2027 sono 5 gigawatt quindi il governo ha decretato di incentivare e riconoscere come comunità energetica rinnovabile un numero di diciamo di comunità energetiche che globalmente hanno la potenza di 5 gigawatt quindi in pratica adesso siamo nel 24 diciamo tra 24 25 26 27 abbiamo praticamente poco più di un gigawatt l'anno che se andiamo a vedere quello che ho già installato è veramente tanto se andiamo a vedere quanto ne ho bisogno non è così tanto perché se avete seguito quello che avevo detto l'altra volta abbiamo degli obiettivi di praticamente triplicare la potenza attuale comunque questa è una cosa da tenere sott'occhio poi c'è il contributo a fondo perduto invece per come dicevo per i comuni all'i sotto delle 5 mila persone e qua dice potenza agevolabile almeno 2 gigawatt cosa che si augura fino al 30 giugno 2026 quindi in totale quella dovrebbe essere l'agevolato cosa si auspica chiarezza io questo l'avevo già scritto prima l'ho mantenuto anche se attualmente visto che il decreto dovrebbe essere a breve brevissimo pubblicato sulla gazzetta ufficiale i numeri che ho inserito che sono piuttosto recenti dovrebbero essere finalmente quelli definitivi e permettere alla gente di muoversi perché prima non aveva degli obiettivi di cui aveva sentito parlare ma non erano definitivi le semplificazioni burocratiche assolutamente servono perché come abbiamo visto i sette passi non è che siano così semplici ci vorrebbe anche uno sportello comunale che desse delle informazioni e desse un aiuto alle persone e poi il coinvolgimento delle istituzioni locali soprattutto quando si parla dei comuni sotto le 5.000 persone io ho finito così e vi ringrazio scusate ci sono stato forse un po' lungo assolutamente grazie Enzo è stato estremamente interessante quanto ci ha raccontato abbiamo un po' di tempo per eventuali domande che al momento non vedo io se non arriva nessuna richiesta avrei una domanda che da rivolgere a tutti i tre relatori alla luce anche di quello che avete detto ma volevo avere un po' la vostra impressione su qual è che sensazione avete sulla percezione degli italiani quindi degli italiani cittadini e della classe nostra classe politica sul fatto che stiamo di fronte a una nuova rivoluzione di tipo culturale tecnica voglio dire c'è questa percezione ecco i dati la differenza di CER tra la Germania l'Italia è abissale qualche motivo ci sarà voi cosa ne pensate chi di voi vuoi intervenire su questo io posso dire qualcosa allora prima prima di tutto noi diciamo non siamo molto pronti a ricepire le novità soprattutto le novità piuttosto e poi certamente non eravamo stati facilitati dalle regole cioè manchiamo tuttora di un decreto anche se sappiamo che ormai è stato autorizzato cioè buttarsi avanti in un'impresa che a un certo punto non ti dice chiaramente siccome è vero che l'obiettivo dovrebbe essere quello climatico però tendenzialmente la gente si sta muovendo per questioni economiche cioè il gas costa caro il petrolio costa caro per cui a un certo punto voglio risparmiare sulla bolletta questo purtroppo è l'elemento fondamentale per cui la bolla credo che sia questa mentre altrove ho l'impressione che ci sia un approccio anche un po' diverso poi tutto sommato resta anche il fatto che appunto come dicevo prima le regole non essendo chiare non facilitano assolutamente un altro? io potrei dire che la mia impressione è che l'ho anche detto prima e lo ricordavo in un'altra occasione anche l'altro giorno il risultato della Germania credo sia così perché c'è un grosso lavoro che parte dall'inquadramento parte a livello nazionale per cui non so c'entra poco ma forse aiuta a capire quando hanno trasferito il governo tedesco da Bonn a Berlino io ho il documento perché me l'hanno mandato hanno fatto in modo che tutti gli edifici amministrativi avessero soluzioni importanti di sostenibilità scelte che andavano che so a ridurre l'uso dell'acqua utilizzare la luce naturale tutta una serie di misure che erano collocate all'interno degli edifici governativi perché dovevano servire perché i cittadini che visitano questi edifici si rendono conto e capiscono quali devono essere comporti cioè è proprio qualcosa di strutturato che parte e li inquadra hai capito quindi per loro è molto più semplice che per noi che dobbiamo ognuno ha la sua fantasia e si trova la soluzione interessante la domanda allora era io scusa Pinociadini no 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 volevo solo dire ma vedo anche Luisa in la battaglia quindi mi piacerebbe sapere cosa ne pensa ma io penso che appunto manchi anche però come sempre un problema c'è un problema di educazione della popolazione quindi da un lato la partecipazione è importante come abbiamo visto anche nelle comunità energetiche come abbiamo visto anche in altri in altri progetti però c'è sempre un problema da un lato di educazione proprio della popolazione a tutti i livelli e dall'altro c'è anche una mancanza di formazione della classe politica io ribadisco purtroppo nella mia esperienza questo aspetto è un aspetto decisivo e non lo so ecco io credo che noi noi cioè noi dobbiamo cercare di fare il possibile per quantomeno diciamo tentare di fare anche delle piccole azioni ma rispondere a a questa a queste due esigenze c'è la battaglia qualcun altro riesco volevo alzare la mano ma non riesco a trovare la no io ringrazio moltissimo avrei voluto fare due brevi interventi sul sulla bellissima relazione di Pinuccia che mi ha molto colpito come sempre ho molto apprezzato le altre ma devo dire che dal punto di vista dei miei interessi quella di Pinuccia mi ha toccato in modo particolare specie per il riferimento laudato sì io continuo a ritenere che sia un testo che ha aperto veramente un orizzonte assolutamente nuovo nasce l'ecoteologia non non dubito a dirlo ecoteologia cioè qualche cosa che prima era separato pensiero ecologico il pensiero teologico finalmente si unisce e anche in qualche modo si saldano due tradizioni che erano lontane quella diciamo individualistica dei diritti giustamente Pinuccia ha parlato dei diritti di terza generazione il diritto all'ambiente dell'ambiente sono diritti di terza generazione ma appartengono per così dire ad una tradizione liberale individualistica il tema il tema della terra qui viene affrontato e i diritti da un punto di vista invece anche della comunità quindi è come se la tradizione individualistica e quella comunitaria si saldassero insieme punto importantissimo c'è ancora un altro aspetto credenti e non credenti poco importa quello che importa è che l'antropocentrismo viene superato e viene superato con una mossa strategica formidabile e cioè che l'uomo non è padrone questo viene detto con estrema chiarezza e quindi si saltano millenni di interpretazione del famoso passo della Bibbia in cui Dio assegna all'uomo il dominio perché si reinterpreta il dominio nel senso di signoria responsabile ora la signoria responsabile significa che tu sei amministratore custode ma non padrone ora sono delle mosse decisive capite queste che ci aprono un orizzonte straordinariamente importante perché poi c'è la custodia l'etica della cura e tutto quello di cui noi abbiamo bisogno perché noi abbiamo anche bisogno sembrano le parole ma il quadro teorico l'orizzonte di pensiero è assolutamente fondamentale quindi questa enciclica rappresenta veramente un punto di svolta e direi anche che nella stessa tradizione della Chiesa scusate c'è una tradizione direi tomista e una tradizione francescana nello stesso XIII secolo la tradizione tomista che si rialaccia ad Aristotele consente praticamente vede sempre l'uomo centrale e quindi la terra è a sua disposizione nella visione francescana invece l'uomo è creatura tra le creature senza perdere il suo ruolo privilegiato guardate anche questo è un punto assolutamente difficile da cogliere per la sua straordinaria importanza cioè l'uomo non è diminuito l'uomo è signore ma nel senso alto della parola per chi crede l'uomo amministra un patrimonio che è di Dio ed è la nostra terra benissimo ultimissima cosa ma questo so che non potrò esurirlo stasera ma lo lancio un po' come proposta e provocazione si è parlato degli allevamenti intensivi io credo che non ci siano molte parole da sprecare perché gli allevamenti intensivi sono il male assoluto potrei dire perché sono il male per gli animali lager sono il male per gli uomini perché è carne malata e sono male per l'ambiente quindi noi dovremmo essere assolutamente uniti e tenaci nel dire no agli allevamenti intensivi però io proporrei qualche cosa io non so lo lancio anche questa come proposta e provocazione si parla molto di carne in laboratorio e io credo che anche come ecoistituto sarebbe bene affrontare l'argomento io ho una posizione su questa che è motivata sia eticamente perché io credo che uccidere miliardi e miliardi di animali sia qualcosa di intollerabile dal punto di vista etico e che se noi possiamo non dico evitarlo ma ridurlo sia già un'azione proprio nel senso di Alex Langer che guarda il futuro dal punto di vista ecologico dal punto di vista della sostenibilità ora perché non abbiamo anche insieme istituto di etica e istituto un discorso a tutto campo sulla carne in laboratorio perché è stata così orribilmente strumentalizzata la carne sintetica frankenstein qualche cosa di assolutamente avvolginevole e noi ci vantiamo di essere la prima nazione al mondo come se fosse qualche cosa di cui vantarsi ad averla messa al bando ricerche importanti io non dico che sia la soluzione però io ho l'impressione che nel quadro che noi stiamo delineando il discorso della tecnologia di una buona tecnologia che ci può aiutare sia ineludibile quindi io mi auguro che venga affrontato prima o poi e lo vorrei proprio che vorrei sentire da parte di voi dell'Ecoistituto se avete questo interesse e se pensate che sia un argomento valido da portare avanti grazie penso che sia un argomento da approfondire se non ci sono altre domande chiuderei qui sì volevo solo ancora fare un accenno molto volgare noi siamo di Genova quindi c'è il discorso delle qualcuno avrà sentito parlare delle comunità energetiche rinnovabili portuali il ministro recentemente un paio di mesi fa ha detto di no a una proposta che era venuta dal porto questo perché perché era coinvolta una considerata grande azienda siccome il decreto parla di piccole medie aziende imprese quindi è stata cacciata la cosa è stata rifiutata il problema delle comunità energetiche rinnovabili portuali è un problema piuttosto ancora tenuto in naftalina perché da una parte è stato detto che il limite del megawatt non vale per le comunità energetiche rinnovabili portuali però poi le regole quali siano se accedono incentivi cose varie per parlare di sto discorso e del cold ironing ci vorrebbe un'altra puntata per cui l'ho solo accennato perché non me ne sono dimenticato ma visto il tempo e anche la confusione che c'è ho preferito fare solo questo accenno finale grazie scusatemi se sono sempre sul tecnico grazie e allora io scusate se vedo ho visto l'intervento di Pinuccia che ritiene sia interessante parlare della carne sintetica me lo confermi quindi Pinuccia perché se voi credete assolutamente sì e anche gli allevamenti intensivi perché è un tema molto non affrontato assolutamente io tra l'altro ho avuto un'esperienza ma adesso non posso stare qui a raccontarla ma significativa proprio Maria Rosa sa di cosa sto parlando e quindi secondo me sono argomenti veramente importantissimi direi che si inquadrano anche bene nel nostro discorso ecco non mi sembra che sia qualcosa di eccentrico rispetto quindi se voi credete la mia intenzione era proprio di avviare un percorso in cui coinvolgere ad esempio ecco lo dico a voi ricercatori ad esempio della facoltà di Trento che si stanno occupando da anni ma erano anche venuti al festival di bioetica e che potrebbero effettivamente spiegare poi naturalmente dare la voce a persone diverse perché è problematica la cosa nessuno pretende di avere la soluzione in tasca però ecco se voi ritenete questo potrebbe essere un un argomento comune di cui occuparci insieme va bene questo naturalmente dopo dopo Natale cosa ne dite poi ciascuno di noi verissimo che è il tradizionalista che vuole continuare a mangiare la sua vecchia carne benissimo chi però vorrebbe anche provarla più come me vegetariane non ha problemi però voglio dire il problema è serio e si inquadra perfettamente secondo me nel nostro discorso della sostenibilità è uno sguardo molto è un argomento importante tra l'altro io sono contattato da un'associazione ambientalista che vuole monitorare con i miei sistemi passivi l'impatto di un allevamento di un grande allevamento nella Pianola Padana sulla qualità dell'aria che è uno dei temi sul tappeto quindi ragionare capire un po' di più perché sulla produzione sulla carne cosiddetta carne sintetica ovviamente io per primo vorrei capire di cosa stiamo un argomento che intuisco ma ho l'impressione che sarebbe meglio entrare nei dettagli potrebbe essere la soluzione a quell'altro problema che ovviamente è quello dell'impatto e oltre di come trattiamo questi poveri animali trasformati in macchine in macchine io penso che sia senz'altro molto interessante personalmente ho difficoltà a dare dei contributi ma senz'altro ci sono delle persone che sono molto più capaci di me di affrontare l'argomento dal punto di vista dell'ecostituto devo dire semplicemente sembra una battuta visto di quello di cui si parla che abbiamo tanta carne al fuoco ma che sia buona carne ecco una buona carne allora ci possiamo mettere un aggettivo Marco Busco appunto vedo Olo Bardi che ha alzato la mano hai visto Federico? sì però si Marco Lobardi ciao Marco sì Marco volevo dire solamente due cose grazie mille una era visto che l'argomento era giusto il ruolo delle città e la partecipazione dei cittadini uno era portare il la mia esperienza personale qui locale a Genova dove la città vista come amministrazione veramente mi sembra che stia dando il suo peggio perché da un lato fa delle grossi grossi sforzi di marketing e greenwashing fa delle delle settimane intere dedicate a smart city mille eventi portando centinaia di persone e poi nella realtà dei fatti e facendosi bella di un premio recentemente vinto come città più sostenibile ma quando mai si è visto questo perché nella realtà dei fatti questo lo vediamo non è non è così fa parte del patto dei sindaci Genova c'è entrata anni fa con un'altra giunta con quella attuale hanno addirittura rincarato la dose hanno presentato un un PAESC no adesso si chiama SECAP diciamo rincarando la dose e presentando questo piano lighthouse che brevemente si è anche visto nella presentazione di Pinuccia in realtà sono soltanto parole perché quando ci sono degli impegni e certi dati devono essere anche misurati questo SECAP che dovrebbe essere aggiornato con la misurazione dei dati a tre anni dalla sua presentazione è di un anno circa in ritardo io ho cercato di chiedere i documenti dall'ufficio preposto mi è stato detto sono in via di approvazione attenda con calma glielo diremo questo mesi fa l'amministrazione in generale è particolarmente opaca trasparenza non sanno cosa sia quando fanno dei piani e uno cerca di accedere non si trovano assolutamente l'ho visto per esempio nei argomenti di mobilità quando si è trattato del progetto quattro assi era praticamente impossibile riuscire a trovare il progetto comunale e di MT lo stesso quando si parla di tunnel anche lì prima di riuscire a mettere le mani su quelli che erano i progetti è stata una cosa difficilissima e poi ci si si riempiono la bocca di questi processi di condivisione con i cittadini questo assolutamente nella realtà dei fatti non è vero ancora nell'ultimo uno degli ultimi convegni che c'è stato giusto nella smart week si parlava di edifici e sono venuto a conoscenza perché non l'avevo solo perché è stato citato lì che esiste una conferenza comunale dell'edilizia che evidentemente è tenuta nascosta perché non se ne era mai sentito parlare da nessuna parte che ovviamente si dovrebbe occupare di come rendere più risparmiosi gli edifici come il verde dovrebbe far parte dei progetti ma sono cose che escono fuori casualmente quando qualcuno per sbaglio le dice quindi secondo me le esperienze da cittadino sono estremamente negative il ruolo delle città per come lo vedo io ci saranno delle città che dicono onestamente come stanno le cose Genova non è quella scusate in sintonia con l'argomento però appunto mette in luce l'altro tema che è quello di una classe politica che non è all'altezza del problema appunto come dici tu anch'io concordo insomma e molta immagine e poi nel concreto le cose mancano questo è un compito in più diciamo per ecco istituto e chi poi come dire lavora insieme con noi per poter vedere fare in modo che appunto queste buone pratiche che esistono anche sulla carta diventino realtà secondo me bisogna coinvolgere di più i cittadini informarli fargli sapere che queste cose si possono fare quindi io allora con questo vedo che non ci sono altri interventi concludo ringrazio tutti e al prossimo appuntamento buona serata a tutti grazie a te grazie a tutti grazie grazie buona serata ciao ciao questo c'è un altro appuntamento perché non l'ho trovato sulla calendaria no c'è l'altro proprio con Luisella sul ruolo delle donne sul ruolo delle donne e l'ambiente con Luisella Luisella Battaglia con Laura Marchetti ed è martedì prossimo e grazie a Francescato e grazie a Francescato esatto esatto tra l'altro dobbiamo appuntamento irrinunciabile irrinunciabile esatto esatto grazie e la gioia anche la gioia di stare insieme di ragionare insieme grazie 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 a tutti